Continuiamo a parlare del cardinale Giacomo Biffi perché il nostro arcivescovo emerito è stato incaricato, come sappiamo, dal pontefice Benedetto XVI di rappresentarlo personalmente in occasione delle celebrazioni che si terranno ad Aosta per il nono centenario della morte di Sant'Anselmo. Il Papa ha inviato una lettera al cardinale nella quale ribadisce l'importanza di approfondire il rapporto tra fede e ragione. Il Papa ricorda il grande vescovo e dottore della Chiesa nato ad Aosta nel 1033, Monaco Benedettino e poi arcivescovo di Canterbury. Durante la sua vita ha insegnato a progredire sulla via della perfezione incontrando Dio con una fede che cerca di comprendere. E' infatti caratteristico della fede che il credente desideri conoscere meglio colui nel quale ha posto la sua fede e comprendere meglio ciò che egli ha rivelato. La grazia della fede apre gli occhi della mente per un'intelligenza viva dei contenuti della rivelazione, cioè dell'insieme, del disegno di Dio e dei misteri della fede, dell'intima connessione che li lega tra loro e con Cristo, centro del mistero rivelato. Sant'Anselmo segue così il detto di Sant'Agostino, credo per comprendere e comprendo per meglio credere.